Ed ecco qua, questo è il primo test, il risultato comunque finale della FOMA dove praticamente ho variato anche il colore per vederla meglio questo è quello che si ottiene e l'ho ottenuto dopo 8 ore e mezza io vi ricordo che il command line si può salvare anche in un... Comodo, basta selezionare e poi incollare, seleziona tutto e poi CTRL-C, CTRL-V in un documento di testo e dopo 8 ore e mezza praticamente di simulazione per una media di 5 minuti per una media di 5 minuti a frame, specialmente verso la fine perché vediamo che si alza sostanzialmente 5 minuti e 10 se andiamo nei primi sicuramente il calcolo è relativamente inferiore quindi è un po' varia, varia come tipologia di calcolo in base a quello che dobbiamo realizzare ad ogni modo, questo è il risultato con la FOMA e questo qui è soltanto lei e a questo punto la potremo andare a prendere siccome l'abbiamo esportata anche in formato BIN possiamo prendere il formato BIN e utilizzarlo per generare delle particles che andranno poi dopo a dare soltanto la dimensione in modo tale che anche queste parti fermiamo, diamo un attimo pausa queste parti un pochino più interne possono essere interessanti perché vanno a creare non tanto una mesh statica ma una serie di punti che poi si possono calcolare quindi avere separatamente magari questo è un esempio che andremo anche a vedere in un software 3D come potrebbe essere 3DX Max oppure anche all'interno di Maya all'interno anche di Udini si può poi prendere questi vari punti Udini però se non avete la versione Apprendice perché non lavora con plug-in di terze parti mentre la versione Indy sì quindi l'unica è avere dalla Indy in su uno potrebbe avere una licenza anche commerciale comunque bisogna avere una licenza commerciale su Udini mentre 3DX Max e Maya anche se avete la versione Student possiamo vedere questo effetto come andare a importare dentro e poi dando una dimensione diversa si può andare a renderizzare la foam differentemente addirittura si possono utilizzare delle plugins come per esempio Krakatoa e a quel punto ottenere un effetto ancora più piacevole ancora più realistico comunque questa è la foam realizzata e a questo punto non ci resta che andare a realizzare la mesh